bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le notizie delle ultime 24 ore di fortnite le trovate in questi pochi minuti un video davvero molto particolare oggi perché si parla della patch 15.10 quindi già sappiamo delle news per quanto riguarda la prossima season ma parleremo anche di ciò che riguarda invece il termine di questa season del nuovo slurp bazooka e se avrò del tempo una notizia davvero interessante per fortnite su ios prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta proprio della notizia di cui vi anticipavo poco fa la patch 15.10 è stata aggiunta ai dev servers che cosa sono i dev servers sono i test di prova i server test dove appunto gli sviluppatori e una ristrettissima cerchia di utenti può provare i nuovi aggiornamenti in anteprima per calcolarne la stabilità il che vuol dire che la patch 15.00 è già completata e quindi non dovrebbero esserci dei ritardi sulla season 5 di questo capitolo 2 che ovviamente vi ricordo ufficialmente arriva il 30 novembre andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è un'immagine davvero molto interessante che però non si è capito bene se sia real o se sia fake qualcuno magari ha già notato qualche cosa di particolare lo state vedendo adesso nello sfondo non è la skin di kai loren se non ricordo male quella ma guardate in basso l'ultima skin a destra è una skin che non esiste ragazzi se la andiamo a zoomare un pochettino questa immagine sta facendo un po il giro dei vari forum di fortnite su reddit e alcuni l'hanno anche portata nei video alcuni dicono che sia la miniatura di galactus che sappiamo arriverà come skin altri dicono che è semplicemente fake non andate ragazzi a cervellarvi secondo me è fake comunque sappiamo che arriverà il galactus e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è una cosa invece molto interessante che sta facendo anch'essa il giro dei vari leakers data minor roba del genere anche qua è più un concept molto probabilmente che una cosa vera presa da uno spezzone di gameplay si parla di un oggetto che in realtà già conosciamo il rift portatile ve lo ricordate questa specie di bolla che voi scuotete e immediatamente vi teletrasporta come fa il rift in alto nel cielo e poi potete un attimo direzionarvi perché l'idea è questa di base ragazzi quella di poter raccogliere i rift e quindi questo video davvero molto molto interessante una volta ha raccolto un rift questo diventerebbe appunto un rift portatile idea davvero molto bella dato che comunque ne appaiono sempre di nuovi in mappa io voto assolutamente a favore e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è un altro concept davvero molto molto carino tra poco vi ricordo che arriverà il torneo il pickax frenzy quindi il piccone frenetico in italiano torneo dedicato all'aclan con ovviamente la promozione e l'arrivo del suo set quindi la sua skin con il suo piccone col suo backpack e la sua emote qualcuno ha avuto la pazienza e la voglia di ritrasformare anche questa skin in una versione minti tra l'altro ragazzi approfitto per ricordarvi che i codici dei picconi minti non esistono più io vedo molti che spacciano il fatto di avere nuovi codici per il piccone magari anche a pagamento no raga è tutto fake non buttate via i vostri soldi perché momentaneamente ufficialmente non esistono nuovi codici per un nuovo piccone minti che vi ricordo però è uscito nel periodo natalizio dell'anno scorso quindi magari lo rimettono non lo sappiamo e siamo già al nuovo argomento perché proprio da noi in italia da ieri le ultime ore del pomeriggio è tornato disponibile il servizio di acquisto dei v bucks controllati mi spiego meglio se dovete comprare scusate se dovete comprare una skin che costa ad esempio 800 e avete 600 v bucks da ieri potete di nuovo ricaricare i vostri v bucks quindi acquistarne solo la quantità sufficiente per shoppare quello che vi serve il che appunto non è male come idea perché non siete obbligati ovviamente a shoppare il blocchettino da mille v bucks se volete e se ve ne servono solamente 200 in questo caso quindi una funzione che abbiamo solamente noi per adesso in tutto il mondo non si sa se la rimetteranno ci usano un po come cavie per vedere come funziona io sono assolutamente a favore di questa reintroduzione che era stata tolta tra l'altro senza avviso e senza neanche sapere il perché andiamo a parlare del prossimo argomento di oggi perché un'altra informazione arriva anche dal galactus vi ricordo coordinata 256 circa sulla linea dell'orizzonte potrete vedere quella roba qua che state vedendo in questo momento il galactus è davvero molto molto vicino si capisce benissimo e una volta che lo vedete dalla terraferma al cielo vi rendete conto di quanto è grande Considerando che è l'abbastanza lontano ancora non sappiamo Ovviamente se avrà un ruolo in questa season manca ancora appunto un mesetto prima della chiusura ma come dicevo e come dico spesso in live Ci hanno fatto aspettare tutti questi tempo senza il galactus e adesso cosa fanno lo mettono giusto in chiusura non lo so non lo so secondo me farà parte della season 5 ma magari mi sbaglio chi lo sa e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è una roba molto molto veloce sembrerebbe che utilizzando lo spettrogramma nel background dello scorso evento dell'ultimo evento che c'è stato su fortnite già si vedeva la sagoma del Galactus quindi come vedete qua in più che tino più ingrandita quello che sembra è un galactus sopra il lago che c'è a sopra le industrie stark potrebbe essere semplicemente una coincidenza ma non credo proprio è Semplicemente un piccolo spoiler quindi se galactus arriverà come già in realtà avevamo capito Avrà sicuramente a che fare con tony stark e tutto quello che sta preparando e chiudiamo il video news di oggi Con questa porca miseria quanti notizie ho messo non è questo questo ragazzi C'entra per quanto riguarda il nuovo slurp bazooka sono state modificate delle variabili nei file di gioco Default slurp bazooka heal amount 15 default slurp bazooka shield amount 15 default slurp bazooka explosion size 200 Quindi hanno aggiunto le variabili per quello che riguarda il tasso di cura dello slurp bazooka che ovviamente Cura sia la salute sia lo shield e anche il raggio di impatto Del suo del suo colpo questo invece è l'ultimo argomento di cui vi volevo parlare il possibile Ritorno anche se in maniera non ufficiale di fortnite su Ios perché invidia ragazzi ha sviluppato un'applicazione che sembrerebbe sia in grado di aprire fortnite sul browser safari Tra l'altro mi sembra di avere letto che questa cosa già succede per i possessori di un mac Mentre è ancora in lavorazione per i possessori di iphone e ipad Questo ovviamente è tutta una cosa che permetterebbe di accerchiare non cerchiare come dire a girare il blocco Sull'apple store voluto appunto da apple dopo il casino che c'è stato con l'abbassamento del prezzo dei v bucks da parte di ap games ma che permetterebbe ai giocatori di Ritornare ad aprire fortnite sui propri dispositivi Quindi è una roba davvero molto interessante sono le prime notizie queste io vi invito sempre a tenere controllati I miei video news ogni giorno alle sette per Rimanere informati sul futuro di fortnite detto questo vi ringrazio tanto per avere guardato questo video mi raccomando un bel like Iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate dalle otto in live su twitch ciao Alla prossima I miei video Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti